Nel giorno in cui sono stati diffusi gli ennesimi dati della crisi che sta vivendo il nostro paese, un terzo dei pensionati che vivono con meno di mille euro e del potere di acquisto che crolla del 9%, la Caritas lancia un nuovo progetto di sostegno alla povertà e lo fa proprio ad Arezzo in occasione dell'assemblea annuale delle Caritas parrocchiali. È stato Don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, a presentare e dare credito all'inclusione sociale, un progetto finanziato dalla regione Toscana che vede la Caritas capofila per le zone di Arezzo e Casentino. Si tratta di un prestito sociale senza interesse, si può accedere solo se residenti in uno dei comuni delle zone socio-sanitarie e devono sostistere delle condizioni specifiche di difficoltà. Obiettivo favorire l'inclusione e il reinserimento sociale. Ogni beneficiario verrà affiancato da un tutor volontario individuato da uno degli enti partner con il quale dovrà instaurare una relazione di fiducia. Un'apposita commissione di valutazione individuerà l'intervento opportuno per ogni richiesta di finanziamento e l'importo verrà restituito secondo un piano di ammortamento personalizzato da un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate. Per fare richiesta è possibile rivolgersi ad uno dei centri di ascolto facenti parte del progetto e richiedere un appuntamento.